Musica Libri.tv, Riccardo Cristiano, siamo al Cleto Festival in compagnia di Francesco Cirillo che ha presentato poco fa il suo libro, al quale chiederemo alcune cose relative sia al suo libro ma anche alle battaglie che quotidianamente combatte, tra le quali quella della, come posso dire, non tanto della legge, quanto delle leggi ingiuste che vengono a limitare la libertà individuale. Certo, vabbè, qua siamo in un territorio purtroppo ai margini della legalità. La legge è appunto qualcosa di aleatorio, ci sono dei soprusi che sono sotto gli occhi di tutti e in effetti la gente non ha dei punti di riferimento su come ribellarsi, a chi rivolgersi, non esistono associazioni che coinvolgono le popolazioni. Insomma, quindi siamo un po' lasciati all'abbandono, nel vero senso della parola, sia sociale, sia economico, sia anche dell'istruzione di qualsiasi genere. Quindi diciamo che siamo quasi in una situazione da fare questo. Quindi io mi sono sempre occupato di problematiche legate al sociale, quindi come dicevo prima l'aspetto più importante, io penso che sia quello della solidarietà, di accettare tutti, di non vedere differenze di nessun genere, di sesso, di classe, di razza, di qualsiasi cosa. Io penso che siamo tutti quanti uguali e che proprio per questo dobbiamo sentirci umani prima di tutto e quindi lottare per avere una maggiore solidarietà. Dal discorso che tu hai fatto parlando delle persone migranti mi sono ricordato un po' quello che accadeva un po' di anni fa per le persone ebree, ovvero c'era la frase molto bella che diceva prima hanno preso lo zingaro, poi hanno preso l'omosessuale, alla fine sono venuti a prendere me e non c'era nessuno. È la stessa situazione in cui potremmo trovarci. Certo, è la stessa situazione perché proprio questa situazione viene determinata proprio dall'assenza di solidarietà. Quando non c'è solidarietà e si pensa che quello che succede all'altro non possa succedere a te e allora cadono tutte le protezioni sociali, tutto ciò che appunto mantiene viva una società. La società viene mantenuta viva se c'è solidarietà, se c'è conoscenza dell'altro, se c'è accettazione dell'altro. Perché se non c'è accettazione dell'altro e si pensa che gli altri siano diversi e che tu sei migliore, allora è chiaro che si creano delle scale sociali, si creano delle scale sociali che fa sì che appunto sempre di più ci sia questa mancanza di solidarietà e quello che oggi noi vediamo, episodi di razzismo, episodi di bullismo, episodi di sessismo, che sono le cose che oggi purtroppo stanno determinando la nostra società. Forse hai fatto una scelta fondamentale che è quella di vedere in prima persona le persone. Anche l'esempio del Cato Festival è questo, ovvero il mescolarsi con le persone abbattendo muri inesistenti che sono muri soltanto mentali e vedendo che l'altro, come spiegavi tu prima nel tuo intervento, è un fratello perché abbiamo lo stesso sangue, abbiamo lo stesso cervello, hai detto. Quindi fondamentalmente discriminazioni non ce ne dovrebbero essere, eppure forse la politica per interesse personale vuole creare delle divisioni. Certo, ma questa è una politica che già ai tempi di Cesare si diceva, dividi e ti impera. Quindi se tu vuoi governare, la prima cosa che devi fare è dividere. Più riesci a dividere le persone, le classi, le razze, più riesci a dividere, più tu hai potere, più tu riesci a governare. Quindi è chiaro che è la prima cosa. Se io comincio a far credere a un giovane che lui è il migliore, e che deve stare attento all'omosessuale, deve stare attento al nero, deve stare attento alla donna, è chiaro che io riesco a controllare di più questa persona, se ancora di più poi immetto elementi di ignoranza, elementi di poca conoscenza della cultura, della storia, e allora quel ragazzo è nelle mie mani e ne faccio quello che voglio. Francesco, un'ultima domanda che poi è stata anche la tua buona notizia, come direbbe Milena Gabbenagli, la good news della situazione. Hai parlato del sindaco di Riace e della città di Riace, che ha fatto una cosa davvero utile e bellissima, quella dell'accoglienza. Ce la vuoi spiegare e raccontare di nuovo? Sì, guarda, è un'esperienza questa qua molto positiva, che io posso dire di aver seguito proprio già dall'inizio, da quasi dieci anni. Questa esperienza appunto è basata intanto su un concetto, su un concetto che è quello che siamo tutti uguali, e che quindi qualsiasi persona che si presenta alla tua porta e che bussa alla tua porta tu gli devi aprire e gli devi dare quello che tu gli puoi dare. E allora Riace e il sindaco che si chiama Mirmo Lucano è partito proprio da questa concezione. Nel contempo c'era un paese che era completamente abbandonato. Abbiamo sentito prima Aiello, Creto stesso, altri paesi, sono tutti in via d'abbandono. Questi paesi sono abbandonati intanto per delle scelte precise da parte dei vari governi che ci sono stati. E queste scelte precise sono quelle di chiudere le scuole, chiudere le caserme dei carabinieri, le guardie mediche, gli uffici postali, concentrarli in alcuni paesi. Ecco, questa politica che è stata fatta dagli anni 90 in poi ha portato anche a determinare lo spopolamento dei paesi. Poi è chiaro, la mancanza di lavoro, la possibilità, la volontà anche di spostarsi verso luoghi dove diciamo paradossalmente si vive meglio del luogo da dove vivi tu, anche poi anche la concessione consumistica, avere il supermercato vicino, il grande centro commerciale, il cinema, tutte queste cose qua e quindi la gente ha spinto ad andarsene. Ecco, lui ha fatto un ragionamento inverso, ha portato la gente nel paese, ha portato la gente nel paese, rivitalizzandola, arrivando proprio a un paradosso enorme, cioè lui è riuscito a portare lì 600 immigrate, in dieci anni non è successa una rissa, non è successa un accolto all'amento, non è successo un fatto di violenza, a dimostrazione che quando la gente si sente accolta e all'interno di un processo e si sente in questo processo, è come te, è una persona umana come te, si comporta come te e vive come vivi tu. Io ringrazio Francesco Cirillo per il contributo che ci ha dato, invito ad acquistare i suoi libri, che poi passeranno in sovraimpressione in fine dell'intervista, Libri TV Riccardo Cristiano, Cleto. Io ringrazio Francesco Cirillo per il contributo che ci ha dato,